Io sono venuto a fare il padrino al peperone di quest'anno, quindi sono il peperone Maio, anzi il peperone ce l'ho in testa, guarda qua, e sono contento perché sono anch'io un prodotto a chilometro zero come il peperone di Carmagnola e quindi farò, taglierò il nastro, non lo so, credo lo faccia il sindaco, però penso a un'intervista molto divertente insieme a pinto, aprirà il frigo e aprirà il frigo di casa mia che è sempre vuoto, però il peperone a volte non manca perché d'estate me lo mangio. Quindi sei un, gradisci insomma il prodotto? Lo mangio, lo digerisco, cosa vuoi di più, anche con l'aglio. Non è facile, quindi è magia anche quella. Per fortuna la verdura, anzi ce ne fossero di peperoni per rimanere, capito così.